Lo sport pesarese è tornato in campo in questo ultimo fine settimana di settembre. A mancare però è stato il pubblico. L'assenza dei tifosi ai primi match in programma in tutta la regione ha fatto molto discutere in queste giornate, soprattutto vista la situazione nella confinante Emilia-Romagna, dove il governatore Stefano Bonaccini ha consentito l'accesso agli stadi fino a massimo di mille persone. Sull'impossibilità per i tifosi marchigiani e pesaresi di assistere dal vivo alla ripresa degli appuntamenti sportivi è intervenuto anche il presidente del consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori, il quale ha inoltre sottolineato l'impatto economico per la società derivato dal mancato ingresso degli introiti derivati da biglietti e abbonamenti. Una situazione che preoccupa anche il responsabile dei rapporti con i tifosi per la Carpegna Prosciutto Basket, Alessandro Mengucci. Sicuramente tutta questa incertezza che c'è al momento su un discorso sportivo, sulla riapertura degli impianti, sta creando dei problemi molto gravi che più passa il tempo e più chiaramente si acuiscono. Cosa diciamo ai nostri tifosi che in questi giorni hanno inondato i social di proteste, critiche nei confronti dell'atteggiamento anche politico, se me lo permetti? Ma diciamo che è chiaro che le decisioni spettano sicuramente a livello di chi comanda, di chi governa e quindi soprattutto sarebbe opportuno a questo punto dare comunque delle regole certe e uniformi perché si stanno creando delle disparità a livello di regioni, a livello di zone che a questo punto vanno a falsare anche lo stesso discorso sportivo. Quindi direi che ci auguriamo che nelle prossime ore e più che nei prossimi giorni arrivi qualcosa di importante e di definitivo che dia delle regole certe, chiare e soprattutto uniformi su tutto il territorio nazionale. Il mio appello è stata basta questa confusione, quindi chi deve decidere ora che prenda una decisione non ci può essere diversità per impianti sportivi e per regioni e quindi ci deve essere sicuramente uniformità perché lo sport soprattutto a livello professionistico si regge anche grazie al pubblico. In questo caso se si parla di aspetti sanitari sicuramente la politica si avvale dei tecnici e quindi diciamo la politica supporta, sostiene quello che sicuramente l'emergenza sanitaria è la priorità, però visto che l'emergenza sanitaria è su tutto il territorio nazionale ci deve essere uniformità anche nelle decisioni, quindi il mio appello era a chi deve decidere deve decidere in fretta perché non ci può rimettere lo sport.